Ciao e benvenuto a questo corso di veleria e produzione delle vele. In questo video mi presento in modo che possiate conoscermi un po' meglio. Il mio nome è Dario Motta e sarò l'insegnante di questo corso. Attualmente lavoro come progettista di vele per una delle più grandi velerie al mondo. Io ho iniziato a navigare, a veleggiare come sport e come passione sin da molto piccolo, quando avevo 5 anni, subito mi sono appassionato a questo sport. E finito il liceo ho deciso di studiare ingegnere navale all'Università degli Studi di Genova e poi mi sono trasferito in Nuova Zelanda per conseguire un dottorato di ricerca allo Research Unit di Auckland, dove mi sono specializzato nell'aerodinamica delle vele. Ho poi iniziato la mia attività professionale in Nuova Zelanda come progettista di vele e sono rimasto là per quasi 10 anni prima di tornare in Europa e continuare la mia crescita professionale, prima in Italia e adesso in Spagna. Per me lavorare sulle vele è sostanzialmente un'esperienza incredibile. Poter vedere la vela che ho progettato, sul cui ho studiato, prendere forma dal rotolo di materiale fino alla sua forma finale, poterla testare e magari poterci fare qualche regata è veramente affascinante. E in questo corso spero di poter condividere con voi questa mia passione per il mondo delle vele, della veleria, della produzione, del disegno in modo che anche voi rimarrete affascinati da tutto questo mondo. Grazie. 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 Grazie.